Entra nel mondo l'olato, da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura. Benvenuti al meteo. Ancora alta pressione sull'Italia con tempo soleggiato. Venerdì 4 febbraio una debolissima perturbazione sfiora il nostro territorio ma il nord resta a secco. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto insiste la fase meteo stabile e siccitosa. Da molti giorni infatti non si registrano piogge degne di nota e nevicate significative in montagna. Cielo in prevalenza nuvoloso per nubi basse e foschie sulle prealpi e sulle dolomiti maggiori schiarite. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra meno 1 e 5 gradi. Massime comprese invece tra gli 8 e i 10 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà più soleggiato sui rilievi. Altrove frequenti addensamenti. Non si escludono poi dei piovaschi su Goriziano e Triestino. Temperature minime tra 2 e 7 gradi. Massime sui 9 e 12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige dove non mancherà il sole, cielo sereno o al massimo poco nuvoloso un po' su tutti i settori. Temperature minime intorno a 1 grado. Massime infine sui 12 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione. Arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. Atreviso e Montebelluna. Lolato. Soluzioni per star bene. Grazie. Momentare.